Siamo qui in compagnia di Giuseppe Petralia, giornalista, scrittore e nonché dirigente dell'Asso Stampa Regionale. Giuseppe, ti chiedo subito, il tuo libro ci fu un tempo in cui di cosa parla? Intanto grazie per l'invito. Cerco di descrivere in questo mio libro l'esperienza che io ho vissuto da giovani in un paese di Biancavilla. Parlo di personaggi, parlo di fatti. Praticamente è uno spaccato di storie che va dagli anni 50 agli anni 70. Che cosa tratta il libro? Tratta di questi personaggi che allora vivevano una vita più tranquilla, avevano dei valori più importanti da salvaguardare. E soprattutto parlo delle mie prime esperienze come giornalista. Io a 14 anni già dirigevo un giornaletto della parrocchia, Il Pungolo, perché era la mia passione. Poi dopo sono andato praticamente, ho seguito altre vie come quella del giornale, della televisione, della radio libera. Insomma ho percorso tutte le strade che un giornalista vuole percorrere nella sua vita. Un'altra esperienza è quella che io ho vissuto attraverso i consigli comunali, i rapporti che avevo con le persone. Un'altra esperienza bellissima era quella che andavamo al cinema all'aperto e siccome non c'erano i soldi, sempre quello era il problema. Che facevamo? Salivamo dal muro esterno attorno perché c'era soltanto un pilastro. Quindi saliva uno, si vedeva un pezzo di film e poi scendeva un altro saliva e si vedeva un altro pezzo. Quindi sono tutte esperienze bellissime. Ma soprattutto io voglio lanciare attraverso questo libro un messaggio ai giovani, cioè quello di cercare di imitare i loro nonni, soprattutto nei valori che loro credevano e soprattutto nel vivere più tranquilli e vivere una gioventù diversa di quella che si vive oggi. Cioè più semplice e più legata ai valori di quel tempo, diciamo.